Il tocco è corto verso l'Iaic, ancora lo scambio per Verde, lancia ancora per Adem, fino a gol! Go! Il gol di Adem, il gol di Adem, la Roma che passa in vantaggio, ottavo gol in campionato per lui, la Roma che passa in vantaggio, va a esultare sotto il settore dei tifosi da Roma, grandissimo, Daniele Verde al fare il pallonetto, il cucchiaio per Adem Iaic, palla per la tocca a terra, in controbalzo, pallone alle spalle di Berkic, Roma in vantaggio, al trentasettesimo minuto il gol di Adem Iaic, gol numero 8. Un gioco lungo verso Verde, vai Daniele, ottimo il cross al centro, però dalla parte opposta al tentativo, che tiro, palla, go! 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 Paredes! 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 Che gran gol! Il tiro al volo sul cross di Verde, il pallone diagonale ha colpito il polo interno e ha dato il secondo gol alla Roma, primo gol in assoluto per Paredes che festeggia veramente alla grande, gol di Leandro.